Ciao, sei alla ricerca del team i regali di Natale? Seguimi, ti do tre idee per dei pensieri di sicuro effetto. Prima idea, un cofanetto per il viso che contiene tre diversi prodotti tra maschere e scrub. In tre differenti versioni ha solo 9,90€ per un trattamento da spa comodamente a casa tua. Seconda idea, quattro profumatissime creme mani corpo. In edizione limitata ha solo 11,00€ da portare sempre con sé in borsa o in viaggio. Terza idea, è per scaldarci in queste gelde giornate invernali, tisane e tè infusi in diverse confezioni a partire dai 6,00€. Vi aspettiamo per i vostri ultimi regali di Natale, anche domenica 23 e lunedì 24. Se invece avete già pensato a tutti i regali, passate a ritirare il nostro regalo per voi, il calendario del 2019. Buone feste a tutti!